Veste na 9 e la Val d'Alpone piangono la morte di Amos, Stella Verde, 35enne morto in un tragico scontro con il furgone del fratello nel pomeriggio del 6 marzo in via Cengiatti a San Giovanni Larione. Oggi in chiesa è la celebrazione delle esequie per dare l'ultimo saluto al giovane. Quel pomeriggio Amos era la guida della sua panda quando ha perso il controllo dell'auto finendo per invadere l'altra corsia. In quel momento stava sopraggiungendo un furgone guidato appunto dal fratello di Amos, Manuel. Purtroppo il frontale è stato inevitabile. A stringersi al cordoglio della madre Terry, del padre Fiorenzo, del fratello Manuel e dei parenti, i tanti amici, i conoscenti e la comunità tutta.